Risolto il problema delle lungaggini per ottenere la carta di identità elettronica. L'aggiunta comunale di Ponte Cagnano-Faiano è infatti azzerato i ritardi per la emissione del documento che d'inizio dicembre 2018 viene caricato nel sistema ministeriale in tempo reale allo sportello. Un traguardo importante che con la più recente documentazione associata alla carta di identità elettronica europea consentirà di ridurre i tempi di attesa presso gli uffici e di ottenere la tessera in pochi minuti. Positivo il commento dell'assessore ai servizi demografici ed elettorali Paola Manzo. Soddisfatti del lavoro compiuto abbiamo dato risposte alle attese inaccettabili per la consegna di questo documento. La sburocratizzazione resta uno dei nostri cavalli di battaglia per servire al meglio la nostra comunità. Sulla questione il sindaco Giuseppe Lanzara parla di risoluzione di un problema che attanagliava da tempo i cittadini. Faremo tutto quanto necessario per rendere Ponte Cagnano-Faiano una città più efficiente, accogliente e vicina ai bisogni e alle attese di chi la vive. Ponte Cagnano-Faiano